Il Museo delle Bambole di Pescarolo, tra i più importanti in Lombardia per la varietà di bambole provenienti da tutto il mondo, nato grazie alla donazione privata della collezione di Graziella del Nino, si arricchisce di una nuova bambola degli anni 20 di produzione tedesca e non della fabbrica Furga. È stata rinvenuta in una soffitta una bambola molto importante. La cosa strana è che questa bambola, che porta una scritta dietro la testa come tutte le bambole in porcellane, con mia grande sorpresa non è una bambola di nostra produzione, cioè produzione della Furga di Canneto, ma una bambola fatta in Germania, bambola fra l'altro allora molto costosa, è una bambola con la testa in porcellana, il corpo tutto snodato in legno, l'abbiamo rinvenuta così come è stata regalata, c'è qualche segno del tempo chiaramente, però la parrucca in muer è intatta, il suo abito un po' tarlato è intatto, le scarpe, e i colori sono rimasti tali e quale, quindi vediamo proprio com'era la produzione nei primi novecento di queste bambole in porcellana. La bambola rinvenuta apparteneva alla famiglia di Riccarda Favalli, che ha deciso di donarla al museo. L'ho trovata in soffitta, dove probabilmente c'è stata da sempre, avvolta ancora la scatola nella carta da pacco, quindi mi ha fatto piacere ritrovarla e sono assai contenta che la bambola sia qui. Apparteneva alla sorella di mia mamma, la quale era classe 1924, ed è stata regalata in occasione della Cresima. Una bambola così allora non era un giocattolo comune. Sicuramente gli hanno detto, ti raccomando, non romperla, tant'è che lei forse non l'ha mai neanche tolta dalla scatola. E infatti la conferma è che abbiamo la scatola con la confezione originale.